Io ho confusione, quando avete iniziato la partita a un certo punto vi ho collegati ai vertici offensivi e dicevo ma chi è Pignatta e chi è Mandarano? Guardateli, stesso Codino, stessa Barbetta, più o meno stessa altezza, attaccanti? Sì, da dove venite? Tu da? Da l'Argentina, tu? E più o meno anche lì, siamo nei vertici, siamo più terreni Senti, questa assomiglianza, età? No, io sono vecchio, ormai è finito, eh, dilla, tu? Io ho 31 Minchia, è forte maaaale, ma malissimo, male! Allora, è spettacolare questa assomiglianza e vi accomuna la passione per il calcio A te piace il calcio? A te piace il calcio? A te piacciono le donne? Ah, per me o no ho dubbi, ha visto? A te è venuta l'accoglione in bocca? A me piace il calcio Ma vabbè, non nel senso lato, non nel senso di andare a... Numero di piede? 42 e mezzo, 43 Io 40 e mezzo Ma per cui sei piccolo? 40 e mezzo sono più o meno i piedi buoni senti tu l'anno scorso a Noto io ti ricordo per il gol del palazzo io non ti ricordo l'anno scorso dove eri? a Paternò che cosa ti ricorda di Paternò oggi vedere la squadra che è in promozione? c'è dispiacere perché l'anno scorso io ho fatto un grandissimo campionato con molte difficoltà e vedere la promozione è un peccato e questo tatuaggio che cos'è? niente mi piaceva? ok, tu hai i tatuaggi? vediamo il nome di mio figlio ecco, bene simbologie di due soggetti a me hanno incuriosito per l'assomiglianza siete più o meno simili attaccanti di sacrificio tu qualche gol in più comunque perché hai le caratteristiche da finalizzatore lui è una seconda punta tu sei arrivato adesso a Noto nel mercato di gennaio tu sei arrivato allo stesso modo? sì, a fine di cento come state in questo calcio? bene, come state in questo calcio? si stanno meglio prima ecco in questo calcio va bene è normale è normale 5 o 6 anni fa sta a me tu vuoi ritorno in Argentina o non ci pensi? posso ritornarci come no non ci penso neanche e tu che cosa vuoi fare? il calciatore grande stiamo parlando di giocatori che hanno tra virgolette vestito la maglia del Noto ma porca miseria sono simili sono simili grazie ragazzi grazie 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 Grazie.